Una domanda al volo, qualcuno di voi ha lobby dell'antropologia? No, perfetto, preferite tutti scopare, ottimo. Allora, sapete almeno che cos'è? Non mi interessa, ve lo dico comunque. È lo studio dell'evoluzione dell'uomo. E io lo adoro per due motivi, in realtà uno solo, non so perché ho detto due. Lo adoro per un motivo, perché unisce due mie grandi passioni, cioè la storia e la disoccupazione. Studiandolo, studiandola, ho capito un sacco di cose poi, tipo che noi umani avremmo fatto proprio meglio a non evolverci. Ma non dico per le guerre, riscaldamento globale, Mario Giordano. No, queste cose ce le meritiamo tutte, come hanno mostrato le ultime lezioni. No, dico proprio dal punto di vista anatomico. Cioè che brutta bestia è l'essere umano? Guardatemi. Quanti di voi mi terrebbero come animale domestico? Nessuno, infatti. Perché in casa ci teniamo gli animali belli, quelli fatti bene, tipo i gatti. Eh? Che belli sono i gatti, piacciono a tutti i gatti. Loro sono anatomicamente perfetti per fare quello che devono fare. Cioè cadere in piedi, svegliarti di notte a cazzo e ricordarti giorno per giorno quanto la tua vita in confronto alla loro faccia cacare. Noi umani, ma anche no. Noi umani, vabbè fatelo. Noi umani invece siamo diversi. Noi ci siamo evoluti per stare dritti, ma la nostra colonna vertebrale è fatta, proprio fatta, per schiacciarsi col tempo. Cioè ci siamo evoluti per avere il mal di schiena, vaffanculo. Infatti io senza mia madre non sarei qua. E non perché grazie al cazzo mi ha partorito invece che ingoiarmi, vaffanculo mamma. Ma perché? Ma perché le... Vabbè fate sto applauso. E due. A mia madre che non ingoia. Bellissimo applauso. No, sono qua grazie a lei perché lei fa la fisioterapista e io mi sono slogato un polso alzandomi dal letto. Insomma, facciamo cacare. Pensate a quanti sprechi di cellule inutili che abbiamo. Tipo l'appendice, i denti del giudizio, il mio cazzo. Tutte cose senza le quali l'umanità vivrebbe molto meglio. Eppure, ce la tiriamo un sacco. Specie noi bianchi, eh? Quanto ce la siamo tirati nella storia, nei bianchi. Con la storia che siamo meglio degli altri abbiamo creato dei cazzo di imperi. Ma voi sapete come nasce il gene bianco? No? Meglio, se no che cazzo ci sto a fare io qua. Allora, circa 8.000 anni fa, in Siberia, uno sparuto gruppo di ominidi, a fuori di chiavarsi al buio in una grotta, è diventato bianco. Lì, bucio di culo, erano in Siberia, perché se no in Africa, fritti subito. E tada, razzismo. Ma, è così, è così. Il fatto è che questa cosa ci dice una cosa importantissima del tratto genetico bianco. Che è una cazzo di deformità. L'homo sapiens originale è scuro. Noi bianchi, non so se ci sono dei sovranisti in sala, mi dispiace, siamo la cinesata genetica delle scimmie. Facciamo cagare. Ma, aspe, aspe, perché magari qualcuno non ci crede. Guarda, mi sto bruciando con quel faretto. Io, senza il doposole all'aloe vera, dovrei squamare ogni estate come un cazzo di serpente. Eppure, ce la meniamo. Anche col fatto che siamo gli animali più intelligenti della Terra. E ci facciamo proprio le seghe da soli, tipo, uh, l'arte, la scienza, la musica, la tecnica. Ah! Ah! Quanto sono intelligente! Quanto sono intelligente! Quanto sono intelligente! Queste cose... Tutto a posto? Ok. Queste cose, mi dispiace essere io a dovervele dire, ma non nascono dall'intelligenza, no. Nascono dal fancazzismo. Perché, parliamoci chiaro, se sei un sapiens, hai appena ammazzato un mammut, quindi hai cibo per mesi e non devi andare a caccia. In una grotta? C'è da cacarsi il cazzo alla grande! Quindi è normale che prendi il sangue del mammut, un bastoncino, vai nella parte buia della grotta, e sul soffitto disegni un cinghiale in memoria della tua ex. Cosa c'è di più umano di questo? Ma noi invece stiamo ancora qua a dirci che l'espressione artistica è sintomo di intelligenza. Porca troia! Io sono su un palco, mi sto esibendo, vi sembro una persona intelligente? Bravi! Bravi! Non lo sono! Non sono intelligente! Infatti, non so se gli uomini l'hanno notato, ma nel bagno, sul soffitto, c'è un cinghiale che ho disegnato io prima! Quindi, per concludere, se mai vorrete trovarvi un nuovo hobby, studiare qualcosa di nuovo, fatemelo come favore personale, lasciate perdere l'antropologia, perché finirete soltanto per capire quanto in realtà io faccia schifo. Grazie! 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 Grazie!